Un cordiale saluto, vi giunga da Sora, da Roberto Iacopini e Gigi Sgarbozza. Siamo qui in Ciociaria per la 27esima edizione della Ciociarissima, una classica laziale del dilettantismo che quest'anno sarà prova valida del campionato italiano Under 23. Dunque si assegnerà la maglia tricolore per gli Under 23, una tappa importante di prestigio. Una maglia che il ciclista che vincerà porterà per tutta la stagione a venire. Che tipo di gara sarà questa Ciociarissima? Chi sono gli organizzatori? La gara è organizzata dalla Società Ciclisti Gasorani con la regia di Giuseppe Ghecche e Gianni Bruni. È un percorso impegnativo. Un premio della montagna molto molto insidiosi. E intanto vediamo le immagini della sfilata tricolore che ha preceduto la partenza. Abbiamo visto le cartoline abituali, le bellezze della città di Sora. Siamo, come detto, in Ciociaria, in una città che ha visto Natali illustri, diversi personaggi dello spettacolo. Uno in particolare ci sentiamo di ricordare, Vittorio De Siga. Grandissimo regista del neorealismo italiano. Premio Oscar, diversi premi cinematografici in tutto il mondo. ma anche altri Natali importanti. Pesco Solido, il tennista, la cantante Anna Tatrangelo. E comunque Sora, territorio anche di grandi ciclisti. Nel frattempo vediamo Renato Di Rocco, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana. e altri responsabili del comitato regionale del Lazio del CONI, Antonio Pirone, l'assessore allo sport che stanno mostrando. Sì, presente anche Riccardo Viola, presidente regionale del CONI, nonché figlio di Dino Viola, storico presidente dell'associazione sportiva Roma. Sì, che vinse lo Scudetto, ricordiamo, nel 1982. Qui siamo alle firme, la firma di partenza dei ciclisti, delle squadre. Sì, questa è la passarella. Qui vediamo una delle squadre, direi, importanti. La Fenice e il Palazzago, che presenta i fratelli Sterbini. Due corridori in grande condizione. La squadra è diretta da Olivano a Locatello. Ci sono le squadre più forti, sono la Zalf, Euromobili, Desiree e Fiori, dei fratelli Lucchetta. Uno squadrone, quest'anno, già 37 vittorie. Ma la seconda squadra da temere, a mio avviso, è la Colpac, che presenta Iuri Filosi, vincitore del Giro delle Pesche Nettarine, già 5 vittorie in stagione. Qui vediamo la Zalf alla foto di Rito. Erano 190 gli iscritti iniziali, ma alla partenza saranno qualche... 140 sono, Roberto, ma ci sono i migliori. Il numero inferiore ai previsti prenderanno il via in oltre 100. E comunque sono rappresentate, ovviamente, le squadre, i team più forti, ma soprattutto i ciclisti più forti di questa categoria. La partenza, ci vediamo in questo momento il sindaco con la bandiera a scacchi e il via, data dal sindaco di Sora, dottor Ernesto Terzigni. Sì, la prima asperità che incontreranno i ragazzi è al Vito, altitudine 505 metri, dopo precisamente 12 chilometri, quindi subito dopo la partenza, ma il tratto più impegnativo, come ho detto, poc'anzi sono i due gran premi della montagna a Portella. Sì, che incroceranno negli ultimi due giri i cittadini. Negli ultimi due giri, precisamente, ci sono negli ultimi 30 chilometri. Una salita impegnativa. I primi tre chilometri pedalabili di pendenza media 4-5%, ma l'ultimo chilometro con una pendenza veramente forte, una pendenza impegnativa 13-14%. E qui i ciclisti vanno in direzione opposta a quella che vedremo poi all'arrivo, ma vediamo il pavè che stanno percorrendo, che dà delle singolari e sicuramente brutte vibrazioni ai ciclisti. Sì, c'è questo lastrigato molto insidioso, soprattutto nella parte finale. Gli ultimi 500 metri in lastrigato. Forse il pavè è importante, ma ci ricorda le classiche del nord, anche se ci troviamo nel meridione d'Italia, a sud di Roma, provincia di Frosinone, la città di Sora che vedete sullo sfondo, e il ponte che i ciclisti hanno attraversato è quello sul fiume Liri. E qui è la partenza ufficiale dopo... Sì, questo è il momento in cui già cominciano i primi scatti, partenza ufficiale, già i primi scatti, e quindi vediamo subito, subito l'attacco. Luca Muffolini della Gavardo, che si avvantaggia di qualche secondo davanti al gruppo, ma insomma è un po' per dare spettacolo. Sì, questi sono i ragazzi chiaramente chi scatta e in partenza io già lo escludo del pronostico finale. Sono ragazzi che cercano di mettersi in luce in questa gara così importante, perché in questa categoria prestigiosa gli altri il 23 è il bacino d'utenza su cui pescare i campioni del futuro. Ricordiamo anche che da queste gare, qualche stagione fa, è nato il terzo sul podio al Giro d'Italia. Fabio Aro, Fabio Aro, che ha corso proprio con una delle squadre favorite oggi, quindi veramente un ragazzo da seguire, Fabio Aro. Io a mio avviso già lo ritengo uno dei grandi favoriti per il prossimo anno della vittoria del Giro d'Italia. Ecco, ci stiamo... Azzardo, azzardo, un anno prima il pronostico. Come al solito, Sgarbozza ci precede nei pronostici, ma noi dobbiamo concentrarci su questa gara che vede già la prima fuga, anche se prematuro parlare di fuga. Qui vedo sullo sfondo già il lago Fibreno, siamo al settimo chilometro di gara, il lago di Posta Fibreno, il gruppo è già tornato compatto, per cui la fuga che abbiamo visto poc'anzi è già rientrata, ma vediamo un altro ciclista che sta allungando. Sono gli uomini della Palazzago, fenice, che stanno cercando proprio di imporre già in partenza la corsa dura. La corsa dura, quindi vediamo... Questo è Giuseppe Sannino. Giuseppe Sannino, sì, questo chiaramente è una tattica di Olivano Locatello, è stato commesso, sono due i direttori sportivi presenti oggi a Sora, e infatti in questo momento si sta allungando tutto il gruppo, quindi significa che il ritmo è altissimo. Procedono sicuramente con una media molto elevata, sapremmo dirvelo tra poco, la precisione, questo è un tratto un po' aspro, i ciclisti salgono piedi sulla sella, evidentemente qualche piccolo tratto leggermente in salita, mentre il gruppo procede compatto. Sicuramente non... Si è un po' allargato nella gareggiata, adesso questa parte qui non sta in fila indiana, per cui ci sono i corridori che sono in mezzo al gruppo, possono rifiadare, faticano sicuramente il 30% in meno dei corridori che stanno in testa a prendere il vento. Qui siamo a Dal Vito, il primo Gran Premio della giornata, quindi precisamente passaggio a Dal Vito con il gruppo compatto, qui una fase intermedia. Si, in un piccolo tratto in salita. Vediamo in testa un corridore della Maltinti-Lambadari, la squadra di Renzo-Maltinti, se riusciamo a vedere il numero sappiamo chi è il corridore. E comunque ci troviamo al diciassettesimo chilometro, il gruppo procede compatto, anche dopo questa prima asperità rappresentata dalla salita di Al Vito, una salita lunga 3 km. Il corridore cresca, cresca che vediamo in questo momento in testa al gruppo. Dicevamo della salita con un dislivello di 130 metri, una pendenza però facilmente abbordabile del 4%, decisamente niente in confronto a quelle salite che percorreranno due volte nel circuito finale in prossimità dell'arrivo a Sora, il cosiddetto muro, l'abbiamo ribattezzato in Muno di Sora. Ma poi la distanza, la distanza Roberto è veramente impegnativa, 183 km, quindi direi che siamo a livello di una distanza professionistica. E qui i ciclisti proseguono in gruppo, la veduta di Al Vito, il gruppo procede compatto, in testa abbiamo visto Luca Sterbini, Giacomo Menchietti, ma anche Giuseppe Sannino, altri ciclisti che avevano abbozzato dei tentativi di fuga molto molto spettacolari, ma più per il pubblico che per... con serie possibilità. Sì, qui siamo già con un attacco importante, c'è stato l'attacco proprio di Luca Sterbini, quest'anno vincitore della prima gara, la Firenze-Empoli, e il fratello di Simone Sterbini, altro grande favorito per quanto riguarda il campionato Under 23, quindi gli uomini della Fenici-Palazzaco stanno imponendo un ritmo altissimo per costringere le squadre avversarie, soprattutto la Zalaf, Euromobi, Desi dei Fiori, e la Colpa, che sono le squadre grandissime, favorite per il campionato italiano. Ecco la cascata dell'Iri, siamo già ad Isola, 48 km dalla partenza, Sterbini al comando, a due minuti inseguono Menchetti e Cuciniello, il gruppo staccato di tre minuti comincia a diventare un distacco abbastanza sensibile, vedremo se potranno incrementare ulteriormente questo loro vantaggio, i ciclisti in fuga, ma quando è un corridore solo il gruppo gli può concedere anche dello spazio, nel momento che manca all'arrivo ancora circa 130-140 km, per cui c'è il tempo per recuperare il gruppo, ecco adesso comincia a essere un po' più preoccupante, perché tra il fuggitivo e il gruppo ci sono dei contraattaccanti. E possono fare anche da elastico, riportando il gruppo sotto il fuggitivo, che ricordiamo è Sterbini, ma la gara è cominciata da poco, non sono ancora passati i 50 km, che cominciano a diventare dei chilometri sensibili. Qui sto vedendo qualcosa di importante, Gianni Faresime sta parlando proprio con un corridore della sua squadra, sta dicendo guarda che i fuggitivi adesso, Sterbini ha 4 minuti di vantaggio, all'inseguimento ci sono Minchetti e Cuciniello, e adesso loro se vogliono cercare di chiudere devono andare in testa a tirare, quindi vuol dire che la squadra si deve consumare per inseguire sia la Zalfa di Silvifiocca e la Golpacca. E comunque siamo qui già all'inizio dell'ultimo giro, stiamo vedendo le immagini del gruppo da dietro, la nostra telecamera sta inseguendo e non sta tirando il gruppo, lo segue da dietro, ovviamente stiamo per ascoltare il suono della campana. È finita l'avventura dei fuggitivi, quindi sono stati ripresi proprio a penultimo giro. Lo si intuiva da dopo il dialogo che le due squadre più forti, la Zalfa e la Golpacca, dopo che hanno parlato con i loro rispettivi capitani, con le ammiraglie, c'è stato il rinvenimento del gruppo, si sono organizzati e hanno ripreso il gruppetto dei fuggitivi, che era composto da tre ciclisti, uno in testa e due immediatamente all'inseguimento, ma poi il gruppo si è ricomposto in vista di questo ultimo giro, l'ultimo giro è suonata la campana, abbiamo visto il transito, a questo punto siamo quasi alla fine, poi il percorso è sicuramente più facile, perché costeggia per larga parte il fiume Liri, si spinge fino a Isola dell'Iri e poi rientra immediatamente a Sora e nel secondo passaggio ci sarà l'arrivo, la fine della prova su strada che assegnerà questa maglia a tricolore Under 23. Comunque c'è stata già una grande scremata, intanto vediamo proprio in testa adesso Toniatti della Zalf, Euromobile di Siria e Fiore, che sta cercando adesso la squadra diretta da Gianni Fanesi di imporre un ritmo altissimo e cercare più attacchi, perché sono sei corridori della squadra, sicuramente cinque possono vincere, escludo soltanto il giovanissimo Velasco, perché si è talmente impegnato all'inizio, durante la fuga di Zerbini, sempre in testa al gruppo a tirare e quindi penso che non possa competere con i migliori. Adesso vediamo come questo sforzo verrà prodotto e se soprattutto consentirà l'atleta con il numero 139, Andrea Doniatti della Zalfa, se sarà in grado di mantenere il vantaggio che non sappiamo di quanto è, ma sappiamo sicuramente da Radiocorsa che dietro in testa al gruppo le squadre, ecco qui vediamo la palla Fenice, cominciano a tarsi i cambi per far risalire il gruppo sul fuggitivo. Adesso Roberto, come puoi vedere, la Fenice-Palazzago è in testa, mentre gli uomini della Zalfa, Eromobile e Desirefior stanno stoppando proprio l'inseguimento. Questo è un momento emozionante perché ci avviciniamo proprio alla salita di Portella, questi 5 km di cui 3 km di pendenza del 5%, ma l'ultimo km al 13%. E qui vediamo appunto i colleghi del fuggitivo della stessa squadra di Toniatti della Zalfa che si stavano rifocillando, ma ecco lo vediamo già a vista il fuggitivo, il gruppo che sta per ricomporsi ancora una volta il tentativo di fuga non ha funzionato, ecco qui alle viste è raggiunto quasi dal gruppo Toniatti, per lui finisce questa avventura in solitaria, anche lui ecco si arrende un po' sta correndo bene perché ha visto che non riusciva a guadagnare, il vantaggio era sempre 40-50 metri con 3 corridori della stessa squadra in testa, il ritmo è più alto. Sicuramente, anche perché credo che siano medie attorno ai 50 questi, sì, prima di arrivare sotto la salita, sì, siamo proprio in vista proprio della sedia dei cartoni, sono questi 3 chilometri che hanno già percorso questa salita già 7 volte, quindi la conoscono molto bene, ma subito dopo i cartoni inizia questa salita impegnativa. E qui come avviene nel ciclismo dei grandi, possiamo dirlo, il gruppo tende ad allungarsi perché i più forti cercano di evitare i rischi che comporta l'affrontare le salite da soli e cercano poi di sgranare il gruppo con lanci e contro rilanci da parte delle squadre. Ma è proprio così, vedendo la situazione, ci sono 4 uomini della Palazzago, l'uomo su cui punta la Palazzago è Simone Sterbini e in quarta posizione, quindi è un ritmo, cercano di tirarlo, sì, soprattutto di lavorare ai fianchi gli avversari. Sfilacciare il gruppo significa sicuramente far faticare tutti quelli che seguono, ma in testa c'era Paolo Bianchini della Gallina Colosio, per lui forse una quarantina di metri di vantaggio, sicuramente uno spazio che il gruppo con il 107 è Giuseppe Sannino che sta facendo un forcing camicidiale, ma attenzione che qui ci sono degli attacchi. C'è un attacco, è Giacomo Berlato del Zalf, spinge sui pietrali e va a raggiungere Bianchini probabilmente che ancora precedeva di qualche decina di metri il non possiamo neanche definirlo fuggitivo, era il capo del gruppo, insomma, il gruppo lo vedeva, lo aveva proprio nel mirino a 20-30 metri di vantaggio, per cui con questa azione di Berlato si sta formando proprio la un piccolo gruppetto dei due attaccanti in questo momento lungo la salita Giacomo Berlato e Bianchini. E questa salita andiamo a descriverla è una salita che vede una pendenza massima del 14%, quindi decisamente più rilevante di quelle che i ciclisti hanno conosciuto nell'ambito del circuito la pendenza media del 9% potrebbe non impressionare se non fosse che queste pendenze massime vengono raggiunte proprio nell'ultimo chilometro della salita ma già hanno preso la misura alla salita l'hanno percorsa già una volta nel giro precedente quindi adesso sanno come regolarsi soprattutto coloro che puntano a vincere questo prestigioso campionato italiano under 23 il sogno della vita per un ciclista indossare la maglia tricolori in questa categoria under 23 consentimi Gigi visto che i nostri telespettatori non l'avevano visto nel nostro primo passaggio quindi la descrizione sembrava sembrava obbligata perché c'è un prima un primo paio di chilometri tre chilometri per la precisione che sono di una salita in progressione facilmente abbordabili da tutti poi appunto questa grande rampa nell'ultimo chilometro con una pendenza massima del 14% noi abbiamo ribattezzato il muro di Sora non ce ne vogliono gli organizzatori è proprio così come diciamo come il famoso muro di Sormano riso celebre da parte da Vito Dacconi Mario Massignà nel 1960 ci fu veramente uno scontro diretto tra i due quindi è l'occasione per salutare Fausta e Cristiano Dacconi io ho corso insieme a Vito scomparso da qualche anno e Imerio Massignà grandissimo amico e torniamo in testa al gruppo e vediamo Palla Fenicia ancora una volta sugli scudi nel tentativo di recuperare questo nuovo buco che si è creato tra il gruppo degli inseguitori che vediamo in questo momento e si è sempre col 307 Sannino che sta lavorando per il suo compagno di squadra qui se succede qualcosa succede all'ultimo chilometro non c'è dubbio qualcosa di importante perché tutti aspettano ora questo chilometro con questa pendenza veramente proibitiva dal momento che lo affrontano dopo 175 chilometri sulle gambe e comunque Gigi va detto anche che si tratta dell'unica asperità del percorso è vero che lo fanno due volte ma il percorso è prevalentemente pianeggiante anche i gran premi della montagna che sono stati distribuiti vedono questo come un momento topico hanno impostato tutta la corsa proprio nell'ultimo passaggio sulla salita di Portella e qui la coppia dei fuggitivi ancora loro in testa la corsa che assegnerà la maglia tricolore di campione d'Italia Under 23 Berlato e Bianchini se mentre Bianchini Paolo Bianchini corre con il gruppo sportivo Delio Gallina Colossio Eurofed diretto diretto da un grande direttore sportivo quindi tra il suo e qui sono rientrato da Cesare Turchetti il direttore sportivo il suo presidente un grandissimo appassionato se sta vedendo la telegrona penso che rimarrà sicuramente entusiasta del suo corridore sì anche se in questo momento il gruppo è rientrato e quindi nuovamente uno scatto importante uno scatto della Palazzago della Palazzago questo è uno scatto che fa male agli avversari fa male agli avversari precisamente Sterbini è proprio Simone Sterbini è proprio Simone Sterbini uno dei grandi favoriti insieme a Juri Filosi e Simone Andretta e questo è un momento abbastanza difficile sicuramente fa la selezione questa nell'andatura questo allungo di Sterbini un rapporto un po' troppo duro comunque dovrebbe mettere un rapporto un po' più agile ma qui sta tentando il tutto per tutto infatti stoppato subito dagli uomini dell'Azalf Euromobile Desiree Fiora e questo potrebbe essere il momento determinante a fare selezione in questo tratto boschivo che tra l'altro pur essendo in salita oggi dobbiamo dire che le temperature qui nel circondario in Ciociaria sono abbastanza elevate c'è un alto tasso di umidità soprattutto nella zona di Sora che i ciclisti hanno attraversato sette volte e questo è un tratto boscoso dove probabilmente sentiranno meno la fatica e gli affanni arrecati anche dal caldo direi che possono respirare un po' anche per l'altitudine 500 metri sul livello del mare ma qui siamo proprio nella parte più impegnativa i corridori stanno accusando lo sforzo prodotto in tutta la gara in tutta la gara adesso sto vedendo che proprio Simone Sterbini causa proprio il rapporto un po' troppo lungo lo vedo un po' in difficoltà sì anche perché poi diciamo che rispetto ai suoi concordenti diretti è anche qualche centimetro in più di statura il che lo obbliga a stare sui pedali in maniera forse un po' particolare perché alto sul sedile con quella bella gamba sicuramente se non se non azzicca sì mentre diciamo pure il rapporto giusto sembra faticare decisamente più dei suoi avversari sono gli uomini della Zalf Euromobile a imporre un ritmo stanno cercando addirittura di fare il voto sono in tre Gianni Moscon e Simona Andretta della Zalf nel gruppo si è proprio il numero 137 Gianni Moscon con sempre e con il numero 77 Luca Chirico Unione Ciclistica Trevigiani classe 92 diretto da Marco Milesi e con in terza posizione Paolo Brundo Coppi Gazera Videa siamo al passaggio per un premio della montagna da qui mancano nove chilometri all'arrivo di cui cinque di discesa quattro di pianura ecco dietro cominciamo a vedere il gruppo assolutamente sgranato i ciclisti cominciano ad andare un po' per conto loro perché effettivamente questa questa iniziativa questa offensiva condotta dai sei uomini prima erano era uno poi se ne è giunto un secondo ma via più si è allungato in fuga un gruppetto di sei persone sei ciclisti che adesso stanno facendo la differenza affrontano la discesa che li riporterà nuovamente nel tratto pianeggiante che li condurrà a Sora nel centro cittadino in prossimità del municipio cittadino dove è collocato l'arrivo di questa ventisettesima edizione della Ciociarissima una corsa vale la pena ricordarlo che è nata nel 1987 infatti si sta formando un gruppetto in testa con Alberto Amici con Simone Sterbini Simone Sterbini con Gianni Moscon Simone Andreatta Luca Chirico e Paolo Brundo siamo siamo sui sei che dicevamo mi ha interrotto quando dicevo della Ciociarissima una corsa che serve a promuovere il ciclismo sul territorio questa è una discesa un po' particolare vedo i ciclisti abbordarla non sempre non sempre con gli assetti giusti infatti Radio Corsa ci comunica ci comunica Roberto che c'è stata la caduta di Moscon attaccante di giornata aveva un vantaggio di dieci secondi e quindi è rimasto con i morti in una caduta e è tagliato fuori dalla gara un peccato peccato proprio in salita sembrava averne di più ma evidentemente si è preso qualche rischio per allungare sul gruppetto che gli faceva da contorno e non ci è riuscito ma si a volte magari trovandosi in testa in un finale di gare così importante con l'ardore agonistico ha rischiato un po' troppo in qualche curva non ha avuto quella freddezza di rallentare purtroppo sono cose che succedono nel finale e infatti qui vediamo i ciclisti del gruppo di testa sono cinque più un sesto che si è giunto abbiamo detto li facciamo i nomi Chirico Brundo Andretta Sterbini il gruppo ha perso Moscon in una caduta che purtroppo non è stata inquadrata dalle nostre telecamere ma questi questi sei sembrano destinati a raggiungere di conserva il c'è anche Yuri Filosi che è rientrato anche lui quindi si è agganciato adesso sono due proprio Filosi che sta imponendo un ritmo altissimo cinque vittorie in stagione direi il Trentino un corridore completo quindi che vedremo sicuramente il prossimo anno in campo professionistico e i due vanno studiando se al termine della discesa si sono ritrovati con un piccolo vantaggio sul gruppetto che gli faceva da contorno e stanno allungiando ma si guardano con il 77 Luca Chirico Unione Ciclistica Trevigiani due attaccanti in mista in mista degli ultimissimi chilometri siamo a circa 4 chilometri dall'arrivo comunque consentimi li vedo un po' preoccupati perché almeno uno dei due guarda spesso indietro per vedere a quanto ammonta il vantaggio evidentemente rispetto allo sforzo che stanno producendo forse potevano essere più produttivi ecco vedi ma sono comunque Filosi sta facendo benissimo dal momento che non era il più veloce dei sei stanno cercando proprio di anticipare i corridori più veloci evitando la volata e lo stretto evitando la volata sta tentando tutto per tutto però non c'è più quell'accordo anche perché Chirico è da più chilometri che all'attacco quindi comincia ad essere un po' riserva di carburante mentre Filosi è molto più brillante assistiamo a dei cambi estremamente veloci tra i due che stanno a significare proprio lo scherzo a cordo probabilmente perché non tirano in maniera uguale adesso Filosi cerca di staccare Chirico ma chiaramente non ce la fa perché il corridore che sta dietro insomma ha l'avversario nel mirino e quindi adesso prende la ruota è coperto dal vento per cui non c'è nessun problema siamo siamo in vista delle prime case della periferia di Sora dove è situato il traguardo e qui comincia c'è troppo studio questo favorisce un po' di manfrini no ma favorisce gli inseguitori perché nel finale di gara negli ultimi chilometri bisogna a testa bassa e mettercela tutta anche perché diciamola questi sono in due e dietro c'è un gruppetto di quattro sono in quattro dietro che si alternano a tirare stanno controllando la situazione li tengono lì forse proprio per convenienza dal momento che se riprendono i due i fuggitivi si saranno altri attacchi e quindi è più difficile controllare la corsa diventa sicuramente più facile avere questi due atleti nel mirino da parte di chi insegue perché è evidente che poi eccoli eccoli qua infatti è proprio chiuso su Simone Sterbini ha chiuso sui due attaccanti ci sono i due atleti della Zalfa Euromobili dei Siree che sono lì stanno in questo momento un po' passivi ma stanno controllando la situazione e qui attacchi e contrattacchi alla ricerca di qualche metro importante proprio per evitare un volatone finale tra sei atleti e qui l'abitato di Sora il cartello che indica proprio l'ingresso ufficiale nella cittadina Ciocciara gruppetto di sei che si avvia oramai a condurre probabilmente in un volatone e in uno sprint questa prova questa prova questo è l'ultimo chilometro l'ultimo chilometro quindi adesso è un momento di studio si sono un po' allargati si sono un po' allargati quindi i sei i sei fuggitivi se dovessi dire un grande favorito un velocista burro non c'è in questo gruppetto penso che siano tre o quattro ma soprattutto bisogna vedere questi ultimi cinquecento metri di lastrigato magari possono favorire un corridore possente perché ci sono delle vibrazioni enormi in questi seicentometri uno dei corridori più brillanti del sestetto e comunque è un vantaggio che sicuramente possono ricavare gli atleti della Zalfel di essere in due uno potrebbe essere di guida all'altro nella volata anche se non li vediamo proprio in nelle primissime posizioni qui c'è un allungo prima proprio alla fine del viale che costeggia il fiume Liri e che immette dopo una curva infatti adesso c'è la svolta c'è la svolta a sinistra e siamo in dirittura d'arrivo in dirittura d'arrivo 350 metri all'arrivo vediamo in testa un atleta con la maglia verde qui siamo siamo ecco l'atleta più alto attenzione attenzione che c'è Andretta in testa no no è scattato Simone Sterbini Simone Sterbini è veramente una grandissima volata di Bodezza gli ultimi cento metri possiamo dire che ha veramente ha stroncato gli avversari è stata una grande sorpresa perché Andretta ha fatto del tutto però troppo tardi troppo tardi se ne è accorto dello scatto di Sterbini e quindi secondo Andretta secondo Atletta terzo Chirico quarto Filosi quinto Mosca questo l'ordine d'arrivo e non c'eravamo sbagliati è l'atleta più alto di questo gruppetto di cinque e frattempo il sesto si era allontanato era stato rimesso in riga ma il volatone è stato poi tra ecco lo rivediamo l'atleta Simone Sterbini si è uscito fuori agli ultimi centocinquanta metri è stato lì ventidue anni di Olevano Romano si è una grande soddisfazione ma anche per il fratello Luca che si è sacrificato in partenza una grande prestazione di tutta la squadra ricordiamo anche che è stato vincitore in stagione di una tappa al Giro delle Pesche Nettarine la tappa più dura del Giro delle Pesche Nettarine secondo Filosi che poi Filosi si è giudicata la gara e secondo in classifica Simone Sterbini dicevi non essere un grande velocista un grande sprint però ha vinto a braccia alzate con un distacco abbastanza sostanziale per essere una volata uno sprint questo è il podio veste la maglia tricolore Simone Sterbini è una maglia veramente prestigiosa importante sì importante passare la maglia tricolore adesso per il resto della stagione il prossimo anno non sarà più dilettante ha già firmato con la Bardiani Valvole PSF lo vedremo in campo professionistico e l'inno nazionale l'inno di Mamelli sulle note del nostro inno un inno cantato da un corale di soda Roberto Iacopini e Gigi Sgarbozza salutano tutti i telespettatori e li rimandano ai prossimi appuntamenti con il grande ciclismo sempre su Iceport 2